A Firenze la UISP promuove, chiama a raccolta gli enti di promozione sportiva per discutere sulla riforma del terzo settore, chiesta al governo e al CONI una vera riforma di tutto lo sport italiano. L'associazionismo sportivo di base è molto preoccupato e allarmato di fronte ad alcuni elementi e strumenti normativi che di recente si sono affacciati, ecco perché abbiamo definito la tempesta perfetta dentro la grande preoccupazione che vogliamo manifestare. La riforma del terzo settore che non dà la possibilità alle associazioni dilettantistiche e agli enti di promozione sportiva di usufruire di vantaggi normativi, il rischio attraverso il pacchetto sport della legge di bilancio di diventare società sportiva lucrativa, la perdita dal 1 gennaio restando fuori dal registro del Comitato Olimpico della Fiscalità di Vantaggio, temi complessi posti all'attenzione della UISP nata 70 anni fa per popolarizzare lo sport e renderlo accessibile a tutti. Con 1 milione e 300 mila soci e quasi 18 milioni di società è l'ente più rappresentativo tra quelli di promozione, perciò oggi è chiamato a raccolto una buona parte dei propri rappresentanti per affrontare questi problemi, lo ha fatto anche coinvolgendo rappresentanti del forum del terzo settore e del CONI. Assumo con positività quelle che sono le riforme portate avanti dal Ministro Lotti, è chiaro che però ci possono essere dei correttivi e questo è il tema con cui stiamo ragionando.